Ciao, ho preso l'album di debutto degli Only One Up nella versione bianca che non mi ricordo come si chiama Tra davanti, retro, non dico, bianca, zoni, metti a fuoco, ho detto metti a fuoco, non succede ancora di più Abbiamo un sacco questa qua E tutto, eh, oh, ok Abbiamo sta fuoco, cos'è, postcard, traspare, vente di, allora adesso io con i nomi faccio su un macello Qui è Yujong, vero? Che è Yujong? Ok, la fotocad è sempre Yujong Ok, poi abbiamo, ok, poi abbiamo, ok, questo è il CT, si sta Ok, comunque mi piace un sacco il titolo di sto album, che ha puntini, puntini, puntini Allora, qui abbiamo questo, mi sembra questo, che è il libro delle lyrics Oh mamma, aspettate, aspettate Ok, ringraziamenti Ok, ringraziamenti E' finito questa volta che mi... Poi abbiamo il phone book Ok, ringraziamenti Ok, ringraziamenti Ok, ringraziamenti Oh, mi piace un sacco questo concept qua Ok, ringraziamenti Eh, la Nutella Ok, ringraziamenti Ok, ringraziamenti Ok, ringraziamenti Ok, ringraziamenti Grazie.